Musica Nuovo appuntamento con cronache e commenti. Il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Per molti gli argomenti che sono stati toccati in quest'ultima seduta del parlamentino toscano andiamo a vedere quali sono insieme ai commenti e alle parole dei consiglieri regionali. Approvato il regolamento sul piano di cessione del patrimonio di edilizia popolare pubblica. Minuto di silenzio in aula per l'incidente nella centrale elettrica in Emilia Romagna. Variante di Montalese, alcune novità su questa importante opera nel Pistoiese. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato il piano regionale di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ERP aggiornato. Articolato nelle proposte di cessione del patrimonio di ERP formulate dai comuni in forma associata in ambito di livelli ottimali di esercizio. Di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Manche, Massacarrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Per legge i comuni entro 180 giorni individuano gli immobili cedibili e formulano in forma associata in ambito lode la proposta di cessione degli stessi e di rinvestimento dei relativi proventi sulla base delle priorità dal comune stesso individuate in ordine decrescente ed in particolare nell'ambito dei condomini misti. Gli edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è inferiore al 50% ma anche gli edifici posti in un territorio comunale diverso da quello del comune proprietario ma anche ulteriori alloggi alienabili. Ma noi abbiamo fatto in commissione prima che in consiglio una discussione importante durata molto tempo abbiamo udito le parti sociali abbiamo udito gli uffici abbiamo analizzato i dati insomma mi pare che su questo sia chiaro un elemento e cioè che le politiche abitative richiedono più risorse mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per i fondi affitti per l'amorosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio a casa mia vendere non vuol dire aumentare il patrimonio ma vuol dire ridurlo tant'è che noi i dati che ci hanno portato è che ogni per comprare una casa nuova ci vogliono tre vendite. Questo è il rapporto che c'è tra le vendite e i prezzi ERP che sono agevolati e l'acquisto di nuovi alloggi. Quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. E comunque sia al di là delle volontà di tutti sono tutte quelle proposte che sono venute dall'opposizione sono proposte di bandiera perché se guardiamo il piano degli ultimi cinque anni, negli ultimi cinque anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi, quasi 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP, erano vendibili 1.400 alloggi e ne sono stati venduti 178 in cinque anni perché le persone che vanno nelle case popolari sono persone che non hanno disponibilità economica e quindi hanno scelto di non comprare. Quindi mettere ulteriori alloggi è solo una misura demagogica per andare in giro a dire che si potrebbe trovare risorse che non si sono volute trovare. In realtà da quella misura, che comunque sarebbe una misura ingiusta, non si trovano neanche le risorse. In teoria non sarebbe sbagliato come concetto, però si parte anche qui da un'idea sbagliata di quello che dovrebbe fare un ente pubblico per gestire il problema. Perché la possibilità di avere delle case popolari da dare alle persone che hanno bisogno è uno strumento che permette di governare un fenomeno. Se io vendo parte di questi alloggi a delle persone che hanno mutato la loro condizione economica, vuol dire che quelle persone non hanno più bisogno di un alloggio popolare o di un aiuto, anche un contributo. Probabilmente perché i figli sono cresciuti, sono andati a lavorare. Sono tante le possibilità della vita. Quindi io non vedo la necessità di vendere questi alloggi che l'amministrazione può adibire a persone che hanno veramente bisogno, ma venderle a persone che hanno mutato la loro condizione. Fermo restando che se si facesse si potrebbero sì ristrutturare altri appartamenti, ma diventerebbe più difficile la gestione per l'ente pubblico di quei condomini dove per esempio un giorno capiterà di dover rifare il tetto o c'è un guasto, si rompe un tubo, ci sono da fare degli investimenti e quelle famiglie magari non riescono a far fronte a queste nuove spese. Quindi c'è anche un problema di gestione da considerare. In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in gradatore da anni. Noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni, con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro possiamo ristrutturare tutti i 5.000, i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in graduatoria e costruendo i nuovi. È una proposta di buonsenso, ahimè la sinistra ha votato contro, noi la ripresenteremo nei prossimi anni. Per poter accedere alle graduatorie ERP bisogna dimostrare di non avere proprietà immobiliari in Italia o all'estero. Questo controllo viene fatto sicuramente sui cittadini italiani ma è fatto in maniera difficoltosa, a volte quasi impossibile, nei confronti dei cittadini che provengono dall'estero perché non c'è l'accesso ai catasti esteri. Noi abbiamo proposto di fare dei protocolli di intesa con gli stati esteri, con quelli dai quali arrivano il maggior numero di cittadini stranieri che poi fanno la graduatoria delle case popolari e poter fare questo controllo incrociato. Non era niente di straordinario, è chiaro, gli stati si restringono a quelli maggioritari, quindi Romania, Albania, Tunisia, Marocco, Bulgaria. Non è che si deve andare a cercare lo stato dell'Africa subsahariana. Anche questa era una proposta di buonsenso, ci dispiace che la sinistra sia indisponibile a accogliere anche le proposte di buonsenso che vengono da Fratelli d'Italia. Cercare di mantenere il più alto numero di appartamenti ERP perché quello che interessa non è aumentare il valore intrinseco ma avere un numero sufficiente da poter, come dire, lenire il bisogno di abitazione soprattutto tra le famiglie più fragili in questa regione. Noi siamo anche favorevoli alla vendita in alcuni casi, soprattutto là dove ci sono condomini misti perché sono di difficile gestione, nel senso che se noi abbiamo la minoranza dei millesimi dobbiamo sottostare chiaramente a quella che poi è la maggioranza quando si decidono lavori di intervento, cioè fare un tetto in un modo piuttosto che in un altro a un costo, andare ad agire sulla struttura in un modo piuttosto che in un altro a un costo, dobbiamo però sempre essere in condizione di dare abitazioni, questo anche per legge e per norma, che siano assolutamente conformi alle normative sulle abitazioni civili. Vorrei però dire all'assessore Spinelli che io stimo molto, che non è vero che le società della salute non si sono mai occupate di immobili ERP. Io ho incominciato oltre vent'anni fa a fare amministratori in questa città, sono stato presidente della commissione socio-sanitaria al quartiere, sono stato presidente della commissione socio-sanitaria in comune. Quando io ho iniziato non esisteva neanche la società della salute, esistevano i SIAST, Servizi Integrati Territoriali e tutto passava da lì, compreso coloro che dovevano partecipare ai bandi e per le case popolari. In quel momento lì tutto passava direttamente dai territori e successivamente all'inizio anche dalla società della salute, dopo quando siamo diventati anche servizi e non soltanto indirizzo, questo non è stato più, tanto per puntualizzare quanto è stato detto in aula dall'assessore Spinelli. Credo lei sia arrivata un po' dopo, quando tutte queste cose ormai si erano risolte. Per quanto mi riguarda io sono favorevole ad accedere ai tasti stranieri, perché qui si parla soltanto di distanza, invece c'è anche, come dire, una valutazione dell'immobile a livello catastale. Chi ha un immobile superiore ad una certa valutazione ha difficoltà di entrare nella graduatoria. Se una persona viene dall'estero dovrebbe, anzi per legge, dichiararlo, ma molto più spesso questo non avviene per l'impossibilità appunto da parte dell'amministrazione di poter accedere ai tasti. L'ultimo Consiglio regionale si è svolto nelle ore successive la tragedia che si è consumata nella centrale elettrica di Suviana, cronaca che ha fatto tornare alla ribalta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, già toccato recentemente dal Consiglio regionale dopo i fatti di via Mariti. Il Consiglio ha commemorato le vittime con un minuto di silenzio. Eravamo in aula quando abbiamo appreso questa terribile notizia, l'ennesima morte, l'ennesime morti sul lavoro e fin quanto soltanto una persona continuerà a morire sul lavoro ognuno di noi deve sentirse in parte responsabile, chi ha possibilità di incidere nelle istituzioni. Io voglio ringraziare pubblicamente il lavoro importante della protezione civile, anche quella toscana che è subito a corsa lì, dei vigili del fuoco, dei volontari, della polizia, un grande lavoro. E soprattutto mandare un abbraccio di vicinanza alle famiglie delle vittime e ringraziare anche i nostri ospedali, l'ospedale di Cisanello a Pisa che ha accolto uno dei feriti. C'è un lavoro di tutti perché quando accadono situazioni come queste non puoi voltarti dall'altra parte. Noi abbiamo due tipologie di strade da percorrere. Una è la carta di Firenze, cioè avere chiarezza di tutte le persone che entrano a lavorare nei luoghi degli appalti pubblici e non solo perché questo è un primo passo per chiedere più sicurezza e dignità del lavoro. Spesso nei cantieri i controlli sono tanti, il tema vero è che non si può avere un controllo ogni giorno in ogni cantiere. Bisogna costruire un patto, un patto insieme alle associazioni datoriali, insieme ai sindacati perché vengano date le risposte per offrire un lavoro più sicuro e più degno. Il secondo aspetto è quello della prevenzione, investire in prevenzione, norme in questo senso. Io penso che noi dovremmo lanciare anche una proposta che negli appalti, quelli nostri, quelli pubblici oltre ad avere un salario minimo perché anche questo è dignità del lavoro e sicurezza nel lavoro bisogna costruire le condizioni perché può avere più punteggio chi lavora più sulla prevenzione nel mondo del lavoro. Anche questo è un modo per attirare le aziende migliori e dire con gran forza che la Toscana vuole andare in questa direzione, più prevenzioni e meno morti sul lavoro. Tra i temi toccati dai consiglieri regionali anche quello della variante di Montalese in provincia di Pistoia una strada che collegherà Sant'Agostino a Montale e che libererà il traffico pesante dagli abitati di Ponte Nuovo e Sant'Omato, creando così un nuovo asse comprato e la nuova viabilità legata al nuovo casello autostradale. Dopo lo studio di fattibilità è stato appurato che per realizzare l'opera lunga, poco meno di 5 chilometri, servono 32 milioni di euro. Per quanto riguarda la variante Montalese che deve essere svolta in provincia di Pistoia a dicembre un mio ordine del giorno fu approvato all'unanimità chiedendo alla Giunta di stanziare alla prima variazione utile le somme necessarie per la progettazione esecutiva di quest'opera. Siamo arrivati alla prima variazione utile, non solo i soldi non ci sono ma la nota di attuazione di quell'ordine del giorno a firma dell'assessore Baccelli rimanda a un successivo approfondimento politico di non si sa bene quale natura e con chi l'eventuale stanziamento di soldi. Anche in questo caso oltre a non considerare il ruolo di indirizzo del Consiglio c'è un problema un po' più serio perché la variante Montalese è oggetto di un accordo vero e proprio fra gli enti interessati e c'è già stata una conferenza di copianificazione che ha individuato il tracciato e quindi la Regione oggi sta mancando alle promesse cioè all'indirizzo del Consiglio regionale di mettere a disposizione degli enti interessati della provincia di Pistoia e soldi per fare la progettazione. Speriamo che la Giunta già ne rimedi con la seconda variazione di bilancio. Cronache e commenti si conclude qui. Il prossimo Consiglio regionale sarà il 24 di aprile e andremo a conoscere gli argomenti che verranno toccati nell'ultima seduta di questo mese propedeutica poi alle due previste nel mese di maggio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS